E' in questa giornata che in maniera particolare stiamo dedicando al tema della pace e vogliamo concentrarci su uno dei fronti caldi che purtroppo riempiono le cronache di tutti i giorni, vale a dire la guerra tra Russia e Ucraina, ma questa mattina vogliamo provare anche a dare un segno di speranza e lo vogliamo fare con la figura di Fra Carlo Maria Chistolini, frate minore cappuccino dell'Umbria, per tanti anni missionario e che dopo 12 anni in terra di Amazzonia ha deciso di fermarsi a Spello per continuare a vivere la sua missione. Buongiorno Fra Carlo, ben trovato, pace e bene, grazie per essere con noi. Buongiorno Leonardo, buongiorno a tutti i telespettatori di Padre Pio TV, pace e bene, è un grande piacere ritrovarvi. E in effetti ci ritroviamo perché già qualche mese fa abbiamo voluto parlare del tuo impegno missionario proprio in Sud America, in Amazzonia, ma oggi come dicevo ci vogliamo concentrare sulla guerra che purtroppo è nel cuore dell'Europa, la guerra tra Russia e Ucraina perché tu Fra Carlo con i frati della tua provincia avete organizzato davvero un'iniziativa straordinaria. Allora io farei un po' come dire il rewind dei ricordi e andrei al 24 febbraio del 2022, una data tristemente famosa perché in quel giorno è cominciata l'invasione russa in Ucraina e da lì comincia anche, potremmo dire, il vostro impegno. È così? Esattamente. Da quando abbiamo saputo di questa tragedia e per la sensibilità che appunto noi Frari Capulcini ci distingue e avere questo cuore missionario che guarda da tutte le parti, non solamente nell'aspetto dell'Amazzonia che era il luogo dove mi sono trovato, ma faccio tesoro di quanto Papa Francesco ci ricorda anche nell'Evangelica Audium che noi siamo una missione, cioè la missione non è solo qualcosa che posso aggiungere nella mia vita, togliere quando desidero. Proprio la nostra vita è una missione. Allora quando abbiamo sentito e saputo di questa tragedia che appunto è la guerra, ci siamo messi in contatto con i frati Capulcini di là, i nostri confratelli e abbiamo tentato di vedere, capire che cosa si poteva fare. Sappiamo che la guerra dove avviene il lutto, la perdita e soprattutto di un figlio, attinge tutta la famiglia, ma in modo particolare sono le mamme a soffrire. E se pensiamo alle mamme che sono già con un'età avanzata, che speravano appunto l'appoggio di un figlio, questo significa la disperazione, è una profonda depressione. Allora si è creato un centro ed è bello pensare che appunto sono le madri di casa Padre Pio. Mi piace questo termine casa Padre Pio perché sappiamo che era a cuore anche a Padre Pio non definirlo un ospedale, ma la casa sollievo della sofferenza, proprio perché si potesse trovare quel calore, quell'affetto di una casa, dove appunto le mamme che hanno perso un figlio si potessero trovare con l'aiuto di psicologi, di specialisti che sostengono e aiutano a elaborare questo lutto. E allora si è iniziata questa campagna attraverso la fondazione Assessimissio e Frate Indovino. E dobbiamo dire che i nostri lettori benefattori hanno risposto con tanta generosità. Devo farti una confessione Fra Carlo. Quando ho letto il discorso che Papa Francesco ha pronunciato ai capitolari il 31 agosto scorso, soprattutto nel secondo punto, quando ha detto che voi frati Cappuccini siete famosi, potremmo dire così, perché andate dove nessuno vuole andare, ho subito pensato a questo vostro progetto così bello, perché andare in luoghi di guerra lo fate anche in altri contesti, in altri teatri bellici, ma lì in Ucraina, soprattutto con le bombe che ancora fischiavano ed esplodevano, è stato, come dire, un motivo in più, potremmo dire, per dare, tra virgolette, permettimi la parola, onore, tra l'altro al saio francescano, che è simbolo di pace. Ed è davvero un qualcosa che, insomma, rende merito alla gloriosa storia dell'ordine dei frati minori Cappuccini. E poi il fatto di aver intitolato Casa Padre Pio, proprio al nostro santo, insomma, lo rende in qualche maniera ancora di più messaggero di pace in questo mondo così travagliato. Ecco, da dove vi è venuta magari anche l'ispirazione di intitolare proprio a Padre Pio questa casa, le cui finalità ci stavi illustrando? Ma sì, lo sappiamo, Padre Pio è conosciuto in tutto il mondo, mi permetto di dirlo, perché l'ho toccato con mano, anche nei villaggi dell'Amazzonia, tra gli Indios, dove appunto eravamo, veramente questo è un miracolo, è un dono, cioè la sua santità ha raggiunto tutti i confini, ma sono le cose di Dio. Quanto più noi ci rendiamo umili, così tentiamo di nasconderci, il Signore invece fa emergere la santità perché diventi dono per tutto, testimonianza. E allora già appunto i nostri frati Cappuccini, che avevano una devozione per Padre Pio, hanno pensato bene di affidare a lui perché Padre Pio intercedesse, lui che ha riconciliato tanto i cuori, ha riportato la pace nei cuori delle persone attraverso il sacramento della confessione, perché non pensare anche in un luogo di guerra Padre Pio che intercedesse proprio per riportare questa serenità, questa pace anche e soprattutto a queste mamme che hanno subito il più grande dolore, secondo alcuni esperti è chiaro che è difficile fare una categoria di dolori, è difficile, ognuno vive il proprio dolore, secondo la sua cultura, la sua psicologia, la sua spiritualità, però è certo che è stato catalogato tra i primi e più grandi dolori la perdita di un figlio da parte di un genitore. Tra l'altro voi fra Carlo siete stati anche tra virgolette testimoni dei primissimi massacri che purtroppo nei primi giorni di guerra in qualche modo hanno anche fatto sì che il tema della guerra risultasse forte, predominante anche nell'opinione pubblica, parlo anche di Buca per esempio, che è teatro di uno dei massacri ad oggi uno dei più cruenti di questo conflitto. Voglio chiederti, la gente, coloro i quali purtroppo hanno subito anche la perdita di un figlio, come dicevi tu, ma anche coloro i quali hanno perso la propria casa, con quale approccio venivano da voi e chiedevano magari anche un aiuto, un conforto, una parola? Sì, io ci tengo a dire perché è stato ribadito anche durante il capitolo generale dove appunto abbiamo avuto una sera in cui alcuni nostri confratelli che vivono in luoghi di conflitto e di grande pericolo, tra cui anche i nostri confratelli dell'Ucraina, che tra l'altro bisogna sottolineare il custode, il responsabile, non è potuto essere tra noi perché non ha ottenuto il visto, non può lasciare quindi il paese, è venuto un delegato e ci hanno raccontato. Ma sottolineerei questo, ciò che vedono, e questo succedeva anche nei villaggi in Amazzonia, si è aiutato tanto, pensate che nell'agosto del 2022 subito sono stati inviati sei camion di viveri e indumenti da parte appunto della fondazione Assisi Missio, frate Indovino, è stato fatto subito questo intervento, poi però abbiamo sentito la necessità di essere lì presenti perché certo bisogna mandare degli aiuti economici sono importanti, bisogna pregare perché la grazia di Dio sostenga e dia forza questi nostri confratelli e a tutti gli abitanti, ma lo capiamo bene che spesso c'è bisogno di essere lì vicini, esserci e questo credo che fa proprio tutta la differenza quando c'è un dolore, soprattutto un lutto, noi ce ne accorgiamo, arriviamo in quella famiglia, a volte non c'è molto da dire, c'è il fatto che tu ci sei che sei lì vicino a loro e questo lo sente, la gente capisce, percepisce che c'è del bene e voler essere lì vicini a loro e poi a me fa sorridere, mi piace questa espressione, ho degli amici che fanno i vigili del fuoco e loro hanno come slogan questa frase che mi piace, mi fa pensare là dove tutti scappano noi andiamo, perché di fatto è così, il vigile del fuoco dove tutti scappano loro sono chiamati ad intervenire. Quando io lessi questa loro frase, mi vengo a casa andando a trovarli di sì, potrebbe essere anche per noi cappuccini, cioè questo fatto dove di fatto tutti cercano di scappare dalla guerra o dai luoghi di pericolo e noi cerchiamo di essere lì vicini, ma non perché siamo temerari o perché andiamo in cerca dei pericoli, ma perché vogliamo essere vicini a coloro che soffrono e portare appunto semi di speranza e di pace. E del resto è il vostro carisma. Per chiudere allora, Fraccarlo, rispetto alla prima idea originaria della casa Padre Pio a Kiev, adesso qual è la situazione? Ha ormai quasi tre anni, diciamo fra sei mesi saranno quasi tre anni dal conflitto che è scoppiato, come dicevamo, nel febbraio del 2022. Sì certo, continua questo servizio tanto prezioso dove appunto le mamme hanno un tempo residenziale, sono ospitate, dormono, vivono là, fanno questo percorso di psicoterapia, di arteterapia, prendono cura anche del loro corpo attraverso delle estetiste, dei parrucchieri, poi cucinano il piatto dell'eroe, come lo chiamano loro, cioè ogni mamma prepara un piatto di cui il figlio era più così desideroso di mangiare, più guiotto esattamente. E poi c'è questa condivisione costante, le parrucchiere che cercano di far sentire che la vita continua. Allora la casa per le madri, ecco la casa di padre Pio, continua a svolgere un servizio preziosissimo e noi dobbiamo dire che i benefattori ci sono, ringraziando Dio. Allora permettimi Leonardo anche di esprimere il mio ringraziamento a voi che fate un servizio prezioso di divulgazione che mettete insomma a disposizione tempo, energie per ancora raccontare e parlare di queste realtà che ci sono, che sono ancora vive e che rischiamo anche di abituarci e scordarci e anche a tutti i benefattori di Fratello Vino perché hanno fatto tanto del bene. Quindi Dio vi benedica, pace e bene. Grazie, grazie Fra Carlo. In effetti per chiudere proprio l'abitudine, il rischio più grande che si corre quando si parla di queste tragedie che colpiscono la carne umana. Noi oggi, grazie anche alla tua testimonianza, in qualche modo abbiamo voluto restituire quell'impegno che vi vede in prima linea non solo in Ucraina ma anche in altre parti del mondo per questo tema così agognato, questo sogno della pace che tutti speriamo si possa realizzare il più presto possibile. Grazie di cuore Fra Carlo e ci risentiamo una prossima volta sperando il più presto possibile in presenza qui a San Giovanni Rotondo. Sarà un piacere ospitarti ancora una volta. Grazie, pace e bene a tutti. Grazie, grazie di cuore. Andiamo in pubblicità.